Oggi vi faccio vedere come preparare Wafu Hamburg, hamburger alla giapponese fatto con macinato di carne e tofu e mangiare con grattugiato di daikon e salsa ponzu. Gli ingredienti sono macinato di coppa di maiale, va bene macinato misto oppure macinato di pollo, e cipolla, tofu, fecora di patate, sake, sale e pepe, daikon, olio di semi, salsa di soia, mirin, aceto e succo di limone. E per abbellire impiattamento due foglie di insalata e due pomodorini. Prepariamo da due porzioni. Prima facciamo ponzu. Nella pentolina mettiamo 30 millilitri di salsa di soia, 15 millilitri di mirin, 15 millilitri di aceto qualsiasi. Io metto aceto di mela. Accendiamo il fuoco. Quando comincia a bollire spegniamo il fuoco. Aggiungiamo 15 millilitri di succo di limone e mettiamo da parte. Abbiamo circa 170 grammi di tofu. Potrebbe essere tofu cotonato oppure tofu verruttato ma non troppo morbido. Andiamo a togliere l'acqua che c'è nel tofu. Lo mettiamo nel scottex e mettiamo sul collino. Mettiamo un altro scottex piegato in quarto. Lo lasciamo almeno per mezz'ora. Grattugiamo circa 140 grammi di daikon. Io avevo solo 140 grammi nel frigo ma potete abbondare molto di più. Prepariamo un'altra ciotola. Sopra mettiamo un collino e poi questo daikon grattugiato mettiamo sopra e pressiamo delicatamente con le mani in modo da separare acqua da grattugiato di daikon. Immaginate di togliere circa 70 per cento di acqua. Questa è l'acqua di grattugiato di daikon. Se aggiungete miele e succo di limone diventa un drink contro il raffreddore. Abbiamo mezza cipolla che pesa circa 60 o 70 grammi. Facciamo tritato. Possiamo vedere che l'acqua che è uscita da tofu ma insistiamo schiacciando. Dopo che abbiamo eliminato più possibile acqua da tofu lo mettiamo nella ciotola. Mettiamo anche 350 grammi di macinato di coppa di maiale e mezzo cucchiaino di sale naturale e un po' di macinato di pepe bianco. Mescoliamo con la mano. Aggiungiamo tritato di cipolla e mescoliamo ancora. Quando vedete che è mescolata bene aggiungiamo tre cucchiai di fecola di patate e mescoliamo ancora bene. Prepariamo una ciotolina. Mettiamo un cucchiaio di olio di semi. Con la palettina dividiamo in quarto questo carne e tofu mescolato. Spaniamo le mani con olio. Prendiamo quantità da un quarto. Con le mani cerchiamo di creare forma rotonda o ovale e leggermente schiacciata. E facciamo questo movimento in modo da fare uscire aria dal carne. Schiacciamo al centro con un dito e facciamo stessa cosa altri tre pezzi. Al posto del macinato di coppa di maiale potete mettere anche carne macinato misto di maiale e manzo oppure macinato di pollo. Abbiamo la padella grande accendiamo il fuoco medio. Mettiamo un cucchiaio di olio di semi. Facciamo arrivare l'olio dappertutto girando la padella. Quando la padella si è scaldata mettiamo hamburger. Cuciniamo con il fuoco medio. Quando diventa questa rosoratura rigiriamo. Anche un'altra parte facciamo avere simile rosoratura. Se c'è troppo olio asciughiamo con lo scottex. Rigiriamo. Mettiamo due cucchiai di sake. Un cucchiaio di acqua. Abbassiamo il fuoco minimo. Mettiamo coperchio e cuciniamo altri cinque minuti. Avevo spostato la padella per avere il fuoco ancora più piccolo. Con il spiedino di bambù facciamo il buco al centro. Se esce liquido trasparente vuol dire è cotto. Invece se esce liquido. Colore rosato vuol dire che dobbiamo cucinare ancora un po'. Ho visto che non era trasparente. Ho cucinato ancora un po' aggiungendo un altro cucchiaio d'acqua. Adesso mi sembra a posto. prepariamo due piatti grandi. Ciascuno piatto mettiamo insalata e pomodorini e mettiamo due hamburger ciascuno. Grattucciato di daikon dividendo in quattro mettiamo sul hamburger. Al fine mettiamo salsa ponzu. Abbiamo fatto il nostro wafu hamburg. Otsukara samadesta. Otsukara samadesta vuol dire abbiamo fatto un bel lavoro. Abbiamo anche hamburger più occidentalizzato e il sapore un po' più grintoso. Invece questa è la versione un po' più alla giapponese perché mettendo tofu e poi grattucciato di daikon e salsa ponzu risulta molto più leggera. Questo video termina qui. Se vi è piaciuta questa ricetta mettete un like e iscrivetevi al mio canale cliccando sul mio logo che c'è nel questo video in basso alla destra. Condividete questo video con qualcuno che possa essere interessato. Grazie per aver guardato fino alla fine questo video. Ci vediamo prestissimo con prossima video ricetta. Ciao a Ciao a tutti